Salve a tutti, di iniziare a parlare dell'argomento di questo video vorrei invitarvi ad iscrivervi, a lasciare un non mi piace, ma tanto questo lo fate sempre, e di condividere questo video per aiutare a crescere questo canale, sperando in un miglioramento dei contenuti, soprattutto dal punto di vista tecnico, grazie, come forse già sapete, uno dei motti per eccellenza dei terrapiattisti e credi in ciò che vedi, in effetti, come spiegava di Fried Sellars nel testo la filosofia e l'immagine scientifica dell'uomo, la differenza tra la scienza e il senso comune sta nel fatto che, la scienza parla di cose che a occhio nudo non si vedono, come atomi, molecole, eccetera, la cosa che può sembrare paradossale è che la scienza nasce proprio osservando il senso comune, che Sellars chiama immagine manifesta, il discorso su Sellars è molto più complesso, io vi consiglio la lettura del suo saggio, è breve e facilmente comprensibile anche per chi non ha studiato filosofia o scienza, comunque Sellars non tiene in considerazione altre cose che la scienza considera che però noi occhio nudo non vediamo, come i pianeti e le stelle, che al limite li vediamo come, se fossero dei puntini luminosi, di fatto i terrapiattisti dicono che dobbiamo credere in ciò che vediamo, e la scienza in effetti parla di cose che non vediamo, la loro obiezione è che effettivamente potrebbero, prenderci in giro, anche qui il discorso è estremamente più complesso, perché esiste un dibattito molto molto complesso e articolato sull'esistenza degli enti di cui parlano le teorie scientifiche, o sul principio di verificazione, di cui parlavano i neopositivisti nel primo novecento, secondo cui tutto deve essere verificato empiricamente, cosa poi contestata dalla filosofia della scienza successiva, a partire da Popper ma soprattutto da Cunef e Herabend. Ciò che in questo momento ci interessa sapere è che la scienza anche se parla di cose che noi con i nostri occhi non vediamo parte da ciò che noi vediamo, se volete un esempio banale, Aristotele, anche se credeva che la Terra fosse al centro dell'universo, per giustificare le anomalie della sua stessa teoria, ha postulato l'esistenza a molte più sfere celesti, Ptolomeo tentò di aggiornare la teoria in modo cervellotico, introducendo gli eccentrici, gli equanti e gli abicicli, perché non riusciva a spiegarsi quelle irregolarità, come i moti retrogradi, in cui Marte, Giove e Saturno sembrano retrocedere per un tratto. Di questo avevo già accennato in un mio precedente video, chiamato Terra piatta. Matrix, un errore di prospettiva, ma volendo fare un esempio molto più basilare, se dovessimo credere in ciò che vediamo, dovremmo anche credere anche che gli oggetti più lontani sono più piccoli di quelli vicini, e che addirittura se un oggetto si allontana si sta effettivamente rimpicciolendo e se un oggetto si avvicina si sta veramente ingrandendo. Già, perché se dobbiamo credere in ciò che vediamo non potremmo nemmeno credere nella prospettiva, secondo la quale noi vediamo la realtà dal nostro punto di vista soggettivo, cioè essa si adatta alla nostra percezione, quindi gli oggetti grandi se sono lontani possono sembrare più piccoli di oggetti vicini. Se un aereo è in cielo può sembrare più piccolo di una formica, ma l'aereo è più grande della formica. Non solo, i terrapiattisti hanno una loro teoria della prospettiva, secondo la quale gli oggetti allontanandosi compierebbero una traiettoria apparentemente curva. Mi sto riferendo al fatto che il sole non si allontana progressivamente fino a sparire lontano come un puntino, o meglio, ammesso che sparisca, grande e luminoso com'è, infatti nella realtà il sole compie una traiettoria apparente curva d'est a ovest, passando sopra le nostre teste. Secondo i terrapiattisti questo è dovuto alla prospettiva, che è il punto di fuga sotto l'orizzonte. Ma questo va contro ciò che vediamo, se dobbiamo credere in ciò che vediamo io dovrei credere che il sole ruote intorno alla terra. Ma loro dicono che non è così, il sole gira sopra la terra, il sole non si alza e non si abbassa, è un'illusione vederlo apparire dall'orizzonte, o sparire dall'altra parte al tramonto. Questa teoria sulla prospettiva è stata demolita dello sciamano, vi linko il video in descrizione. Chi crede che la luna sia un ologramma, anche in quel caso essi non credono in ciò che vedono, perché noi la luna la vediamo, quindi dovrebbe essere vera, e se proprio volete credere ai vostri occhi, mettete insieme un euro ciascuno, sicuramente riuscite a mettere i soldi da parte per comprarvi un telescopio, a quel punto dovreste imparare ad usarlo e vedere voi stessi se le vostre concetture sono vere oppure no, per cui decidete voi se essere coerenti con il credere in ciò che vedete oppure no, in entrambi i casi dovreste credere alla scienza. Non dimenticatevi di bombardarmi di dislike. Alla prossima!